I don't give a damn Ciao a tutti ragazzi siamo tornati oggi sul gioco più giocato del mondo League of Legends Oh con la S si finalmente vedete che piano piano le cose migliorano e oggi ci divertiremo un sacco Eh si sicuramente ci divertiremo un sacco perché ogni episodio di ciao amico spacca il culo e è divertente Ogni episodio di League of Legends spacca il culo ed è divertente e quindi sicuramente sarà molto divertente E niente come potete vedere siamo nella nostra lobby draft Bibi senza lane ancora Infatti senza lane io infatti metto le robe Che è già meglio E raga oggi affronteremo non lo so che tipo di partita Intanto la cerco perché questa volta vi facciamo vedere anche il pick E niente raga non so che tipo di partita affronteremo spero che affronteremo una partita mozzaviato E dove andremo a vincere ovviamente Cioè mi sembra anche che quella è una cosa ovvia che tocca andare a vincere Mi sembra una cosa chiara Eh si Chiarissima Oggi Non ho detto niente ma comunque Niente è questo Jokersupport Ma infatti Jokersupport selvatico Non come ne ero accorto Se vuole andare a fare hinting player No Ma affidare gli avversari Oh bravo so fortissimo Jokersupport E n'è vero Divi le cose strane Come sempre Sono matto Ma perché Ah vuoi andare con Yumi eh No no Yumi non lo posso giocare Eh allora no Allora no Jokersupport Che cazzo vuoi Ora gioco qualcosa di rotto Jokersupport Qualcosa di rotto Tanto tu ogni tanto Luggins Sa perché oggi Sì Jokersupport Ah si Ogni tanto gli zompano le parole Potrebbe essere la sensibilità troppo alta il microfono Boh Però lo facevi anche prima che l'abbassasse E allora è solo questo Qualcuno non si è unito Come sempre d'altronde Succede sempre in questo gioco Sempre sempre Oh Oppure vorrei giocare Yumi effettivamente No giungla no regà No Rubber e jungle Vuoi andare support? No Ti posso offrire solo quello E' no i top E' no la giungla con Nasus Dai fai un jungle serio Mi favore Non ti avrò il domanda top Twitch non era piaciuto l'ultima volta Twitch Vabbè Twitch non ha male Poi se ganchi la bot Poi c'è gestiamo noi Fanno Twitch Eeeh Boh Mastery Jax Va bene Va bene anche Urio Vabbè Tutti quelli che vanno Corpo a corpo Con lo stun Ah ma io devo mettere le rune però Ecco Questa non gioca pure Yorick Acalia Per une Mettiamo Le giuste Ole Allora Vediamo Chi sarà Il nostro Avversario Bot Sono proprio curioso Gentaccia Sicuramente E niente Comunque i pick Stando per finire Una volta finiti Faremo il taglio Perché abbiamo deciso di spostare il taglio Una volta fatti i pick Perché almeno Come potete vedere È più interessante la situazione Lo vedete anche Tutti i momenti Perché Il pick and ban È la parte più divertente E più odiata Eh sì Della parte sì Più da lì puoi vedere Se una partita è persa o vinta Eh Per esempio Io ho molta paura Contro Nico Ezreal Con Blitz Però ci andiamo qua Perché abbiamo il cazzo duro Vabbè dai Blitzcrank Lo conosco abbastanza bene Ok E vabbè raga Se ripetiamo fra due secondi Alla schermata di caricamento Allora raga Eccoci qua Come potete vedere Siamo nella nostra Bellissima schermata di caricamento E questa è la gente O almeno i loro punti Noi siamo Abbastanza più nabbi Darius è ignorante A parte uno con noi a 48 Il resto sono tutti altissime Ma la nostra squadra È ovviamente più debole Ebbè Darius Potrebbe andare bene Darius 82k di maestria Bronzo 1 Davvero Vabbè Vabbè Non vedo perché no Anche se C'è da dire che Col nuovo Sistema di ranked Ti posizionano Iron 4 Se non Eh io su questo Non lo so Talon è main Magari È meno Ma chi è a top Kali Sindra Kali Akali Sono switchati a lane Beh Probabile Indra top Beh Sindra Con TP Eh però Infatti In effetti Però anche Akali C'ha TP Parecchi mid laner Si usano col TP Perché Akali si gioca top E anche mid Volendo Eh sì Si gioca È meglio top Però è più performante Anche se Contro Talon Potrebbe essere Un bel counter Che palle Cazzo Ma ogni volta Sembra stessa storia Cosa Che tocca Pia gli schiaffi Dai team fatti Ma speriamone no Cacius Ma hanno un team Poi così forte A livello di team fight Siamo meglio Siamo meglio noi Io non so come gioca Io non so come giocarmela Con Twitch Allora tu ascolta Quello che ti sto per dire Non lo ripeterò più Vai Ho capito Ti fai il red Ok Ti fai il red Eh Poi vieni bot A livello 2 Sì ma io Lo so Ma quello sicuramente Però per il resto Come giocare Perché mi schiattano In uno contro uno Poi dopo ti fai Piccioni e Krug Eh Ma ti posso caricamento infinito Eh C'è qualcuno che c'ha Il computer fatto di legno Evidentemente Di legno Allora noi abbiamo 3 ignite 0 TP Loro hanno 2 TP E un ignite E niente Qui Il 96% Allora mi raccomando Fix Devi Devi Non devi farti colpire Da una sola mossa Eh Qual è la mossa La pallina che lancia Nico È una pallina Che va in lungo Tipo la Quella di Lux Ah ok Quindi basta schivarla Da sinistra a destra Basta schivarla È dritta per dritta Ah ok Però Quella di Lux Si ferma i primi due minion Questa qui Continua dritta Ah Quindi Se sto dietro I minion Non mi cappa uguale Eh Devi proprio Essere fuori Dalla tua Allora è più forte Deluxe La mossa E poi In base a Quanti minion Colpisce Ti stunna Per più tempo Cioè Tu comunque Laghi È un casino Però C'ho l'MS Fisso A 60 Quindi Eh no È un po' Non è tanto lag E quanto le senti Proprio È quello Non so La lag Quando parli Te si sente bene Però Te zompano Novo le parole Si perde mezzo discorso Ma poi siamo fissi A 96% Io a 90 E io a 96 E allora è rubber Allora Tu sei a 96 Jay E non ce lo dici Lo risponde Ma probabilmente Qualcuno che si è proprio Disconnesso Speriamo Non succeda un remake No ecco Evviva Grazie Era ora No sì Vai Era grande Eh caccio Allora fammi vedere intanto Quello che passa Eeeh Tipo Questo qua E' qua Siamo blitz Dobbiamo invadere Vabbè Andora Chi sa che non partono da red Infatti parte da red Questo è tuo Ah ok Ah 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 Io torno a posto Un piacere Oddio che figo La skin di Darius Questa qui Appare il cane Darius diore Ehm Sembrano abessermi ogni volta Vero Poi c'è anche Garion diore Non ci penso neanche Una volta Prima di far saltare La roba per aria Cぐ Allora, mi raccomando, io te lo chiamo quando li grabbo Almeno ci provo Quando li grabbo butti le trappolette sotto Sempre la solita cosa Non stai ridendo Grabo Trappoli O lo hanno bruciato Comunque le trappole adesso non gliene posso lanciare, sai come sono l'uno Sì, infatti Magari più tardi Tu al massimo ora gli fai gli attacchi base Oh, Rengar livello 2 Cazzo di cosa Ah, questo è Nico Che far ingannare Occhio, occhio Rispetto all'avversario Vedi che loro erano più avanti Ah, il nemico? Cioè, eri più avanti di quanto erano Devi giocare speculare all'avversario No, non no back Altrimenti ci lascio le penne Bene, va bene Vagli di erro Vagli di erro Farmo Farmo Che cazzo? La remake Eh, taglio raga Allora raga, eccoci qua in una nuova schermata di caricamento Perché la partita di prima, come avete visto È andata al baretto È esploso E questa è la nuova partita Ehm, va bene Vabbè Comunque Rubber Pozzata 500 Pozzata 500 Pozzata 500 Scudo di Doran Sei contro Fitz Come so contro Fitz Atrox aggiungo Ma Ma Eh già Contro Fitz Ascoltami Primo oggetto spada blu della Trinity Eh, lo so Avresti dovuto mettere le rune Verdi Eh, vabbè Ho messo come secondario Va bene, va bene Allora Ma andrà bene, diciamo E poi? Compra la pozza Da 500, ok Ok, Fix Io e te li spacchiamo Quelli hanno Sì, sì Non hanno IAL No, io che mi faccio La Trinity E poi mi faccio la corazza spirituale subito Oh No, io non lo so Sì, va bene Eh, non mi risponde Eh, sì Eh, io ho risposto Solo che non mi sa Che non è passata No, no Non mi sa De no Oddio mio Vai, comprate gli oggetti Che andiamo a invadere No, ma andiamo a invadere Qua, qua, tutte qua Benvenuti nella landa degli evocatori La Trinity non vuole la prima kill Ma non ci vado Perché ci tocca a nace 30 secondi alla generazione dei minimi Qua, 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 qua Devi far vedere Dragos fa una fra quattro minuti E tu peggi Le freccette E da tutti i numeri sopra Dove? Le frecce che stanno vicino alla Q Eh, esatto Ah, tab Ti insegnerò Cosa si unifica Ah, c'è scritto Va pure sopra Ma è vero Ma non ci avevo mai fatto caso Vabbè Primo kill per me Vaffanculo 8 HP 12 HP Non ci credo Evviva Viva Senza senso Ah, ha flashato Che bad player Oh, primo sangue per chi? Per noi Kinks, vai botto a farmare Prendi il vantaggio Vai botto a farmare Io vado top Allora, loro hanno perso la DC Quindi lui è indietro di farm Ah no, al TP Vabbè, è a pari Però ha usato anche questo Comunque l'ha usato alla fin fine Ha usato flash E ora ha usato pure il TP Ok, mettiti qua Ok Q Ora tanto ci prendiamo tutta la calma Del Flash lo conosci già Sì, sì Allora, ti aiuto un attimo a pushare i minion Un po' più Non va a far masso, bastardo Va bene, va bene Occhio Bravo Tira io un auto E ti tiri indietro Poi aspetti Che ci ritorno io E a farmare Rispetto a trash Più che Caitlyn E nemmeno essere vivi Va bene Bel trade Scusa Deo per No, non No, non Occhio No, non No, non Questo E' 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 Ogni tanto tira una Q con razione a distanza Eh sì, mi sento lo faccio Anche se i nemici, anche se i nemici, vabbè Vai, vai, attaccala, attaccala Ok, indietro, indietro, bellissimo trade Vabbè C'è sta, c'è sta Le trappoline però non gliel'hai buttate Eh no Quando io ho fatto lo stun Eh ma anzi, l'ho capito però c'era di maglia C'era arrivato tardi Va bene, allora, questi hanno poca vita Ok, fai queste minion con la Q Vai, vai, su quella, su quella, trappoline Perfetto, ora torna indietro Il progetto Boh, l'ho preso Eh, l'avevo preso che lappola Perfetto, perfetto Tutto come da programma Perfetto Continua a farmare Ti metto visione nel fiume Ricordati farmare i minion che stanno per morire Ok Movimento Se può fare, se può fare Facciamo, vai, un po' di attacchi basi sulla torre Ora, cambia Q e fatti questi 3 minion dietro Ok, indietro che non sono, sono finiti i minion Eh, riporto finito anche il mana Ok, ferma normale, se riesci a tirare l'ultimo Q qua E fai quest'ultimo minion e noi andiamo via Ecco, non uscio Vabbè, questa si vuole far poccare a tutti i costi, io la pocco, scusa Va bene Ok, ora andiamo via Quanti gold hai? 1100 Qualcosa posso pure andare a comprare Eh, prenditi il piccone Quello da 875 Quello da 875 Qual è il piccone? Qua non ce l'ho Eh, dell'infinity Quella spadona che ti fai sempre Ah, la spadona quella Ah, sì, ok, sì, vabbè, sì, l'avrei fatto Tanto avrei preso quella Ok, e un paio di pozioni Eh, pure Una anche, va bene Pure due Giusto per stare in lane più tempo Pure due, dai Ok, torna Ti provo, ma non me ne frega niente Allora, va bene Comunque, va bene Sta farmando meglio di te Eh, sì, eh, mi rompe il cazzo un botto quando farmolo Però comunque tu hai la kill Però va bene, infatti Ok, trappoline Allora, 5 secondi alla fu Pusha più veloce che riesci Trappoline, trappoline Ah, che sfido Che poco Bene, andiamo su questo Andiamo qui Lo preso Bello, lo stu Bello, bello Trappoline, trappoline Eh, non ce l'ho Nulla già lanciata Va bene, va bene Va bene, è morto Uh, non ci sono nemmeno morto GG Buono Ok, pusha come non ci fosse un domani Easy Hai una visione della piazza qua? Sì, uno ce la venga a piazza proprio Così rischiamo che arriva nel pubblico Va bene Facciamo una stacca al volo Oh, dove l'hai già stata? Non lì Da qui non Dal murro non può arrivare nessuno Eh, no, io le metto là Più che altro quando sono dietro Eh, va bene Sbagliato Spile devi mettere quando avanti E invece di lato quando sei già avanti Ma perché stanno tutti top? Io non ho capito Cioè, ha sirvenuto top Divertono, frate Lasciami divertire Tu devi giocare sotto torre Come Nasus Peggio di Nasus Allora, come sta andando? Stiamo perdendo tutte le lane Io sto finché non ritorni Sono... Va bene Sto arrivando Sto arrivando Se vuoi arrivare qui con la Q Tirata Eh, no, l'ho ucciso Esci a tirare quell'attacco base Giusto per l'affettare Miner Ma che cazzo Non male che questa Katelyn è un bot Eh, davvero? Beh, no Comunque è sempre top Sto ragazzo Da, ma già è 5-0, Atroso Eh, sei mia, balorda Easy Vabbè, dai Easy Occhio ai Minion Occhio ai Minion Che te l'ho detto? Eh, sì Ma gli stavo a killar Perché quelli dietro Era l'ultimo colpo Dovevo darglielo per forza Evita sempre di farti colpire Della torre Vai, vai Sulla torre Facciamo questa stack Ora, già lontani Mi fai una W No, non è che poi Va bene Con la Fuglia ho levato mezza vita Allora, fammi mettere questo qua Occhio C'è già È il nemico Via, via Quello è cattivissimo Eh, immagino Mi immagino È 5-0 Bravo però io Arriva da Tante battaglie vinte Eh, sì Vabbè, per ora pure Io so 2-0-1 La fin fine Sono positivo Eh, sì Anch'io 3-0-2 Perfetto Spera W Preso Ok, flash Eccellente Oh, ma ci ha fatto A comando Eh, c'ha un ranger Spropositato Quella mossa Ok, pusha Allora, ti insegno un trucchetto Allora, prima cosa devi evitare quella mossa Eh, l'ho evitata infatti Paro paro ma l'ho evitata Eh, dicevo Quando arrivano i minion E tu ti focussi prima sui maghetti dietro Eh, meglio Hai più tempo per concentrarti poi sugli altri E intanto vedi che mi fai anche danno a lei perché non ce l'aspetta Eh, no E poi ti gestisci quelli davanti che più o meno arriveranno a metà vita No, va Ok, l'ha flashato Va bene Allora, safe Che arrivano da qua Andiamo visione, ragazzi Ce l'ho Se ce l'hai metti acqua nel circuito del fiume Occhio Beccato Easy Easy Quanti cazzo di ronni fa a Morgana Ok, la Q qua che te li sto anche danneggiando Eh, un attacco base e un passetto indietro No, ecco Ho cliccato sul minion perché non l'avevo visto È stato quello il problema Comunque se tu fai un attacco base e un passetto indietro queste cose eviti Eh, lo so E' fatto proprio apposta per evitare i target Ah, va bene, qua la torre te la taglia Oh, l'ho messata per un pelo Vabbè, andiamo best, vai Avrai uno spraga Ah, no, c'è il carretto C'è il carretto Beviti una bozza e mi fai il lane Beviti la bozza, che se no ti fa male Fatti il carretto Mi raccomando, è importantissimo Dai Vaffanculo Ok, andiamo back Ora noi abbiamo resettato Perché tutti i minion sono morti E le wave arrivano probabilmente Eh, sì Va bene Va benissimo Buono, questa la posso finire Qui posso fare questo Sì Ok, c'è quell'altro che è un po' incontrollabile 9-0 Doppia uccisione nemica Problema? Sì Caitlyn La DC Il support ha abbandonato la DC Completamente Ci ha rinunciato Ha capito che è inutile No, vabbè, noi questa lane la stiamo a portare avanti abbastanza bene Penso la vincevano noi E' sopravvissuta la ultima No, noi l'abbiamo già vinta Eh, sì, immagino Immagino di sì Madrox non sta a continuare a pushare, cazzo In questa ora gli andiamo aggressivi Vieni, vieni, vieni Ah, te la lascio anche No, l'ho lisciata Te l'ho presa io perché se no L'ho lisciata Me faceva troppi da Eh, sì, lo voglio Sì, si, non cina Facciamo questa torre, vai Vai, vai Questa è la prima torre, è bonus gold Buono Vieni, avanza, avanza Perfetto, inizia a fare i danni che vedi Ora chiudi le scarpe appena poi Eh, sì, veramente non ho nemmeno iniziato perché ho chiuso lo spadone Sì, ho il corriere, sto giocando, per Dio E a noi forse gli fanno pure quest'altra, eh Meno, meno Oh, 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 oh Stavo per prendere, me nemmeno Ah, sì, infatti Stavo per lanciare le drappole Scusiamolo un attimo Atrox è sempre dob, io non riesco E Atrox, ah, non è il top laner Eh, non riesco Andiamo a pushare un po' a mid Almeno diamo il tempo alla bot di pushare Ci torniamo e facciamo Sì, sì, va bene Farmo poi sto sega, farmo Perché solo perché c'è Atrox Oh, oh, oh Oh, me scoppia però Eh, me scoppia Eh, mi ha attaccato anche l'altro Eh, ma perché Atrox è 13-0 Eh, sta troppo white Cioè, io ho levato una buona parte della vita Ma me scoppiava Cioè, io ho one shot tutti Ma lui non gli faccia un cazzo Beh, ora ho finito pure le scarpe, dai Closi tutti Ma poi abbiamo il mid 1-0 Eh, infatti non è bene Non è bene Allora, sai che cosa dobbiamo fare noi? L'unica cosa che possiamo fare Da brava bot lane È pushare fino a dentro la base Eh, fino a vincere E sperare che i nostri alleati Tipo Yorick Eh, non posso Ah, regà, non posso giocare a top Eh, vedo pure R Infatti sta a 2-5 Eh, lui ci sta andando bene No, eh, vabbè Rispetto alla... Eh, vabbè Rispetto a... Ah, vai Sto allunciando una coupe È sbaglio Eh, vabbè Ehm... Dai, non... Che po', non fa niente Non faccio niente È più importante, è più importante Vieni, vieni Ecco, va il carretto, il carretto Questo ci dà danno per tutta la partita Se ci arriviamo fin là Era il carretto Il carretto non lo dovevo via per forza È inutile che pinghi Chi è che sta pingando? Non lo so Io Io sto pingando Questo ci è un ciclissimo Arrivano Via, via Di qua, di qua, di qua, di qua Allora, gira qua Secondo me Dobbiamo convergere a difendere Che se no è finita la partita Edwin va a difendere Eh, in realtà dovevi zompare anche te Vai più veloce Eh, sì, lo so Però non so come fa Allora, ho il mio vantaggio Sei dietro di me Sei dietro di me Vai, vai, vai Dai, oh, questa gioia Con la speed, per Dio E qui fa la speed Prima della balla Oh, ma me ne va un botto Come ne va Madonna, è un botto malissimo Eh, sì, lei ti distrugge È normale Va troppo male Oh, Katilin è passata Se la chiudiamo da dietro La scoppiamo in una maniera Non se ne aspetta Non se ne aspetta Fai il giro lì Passa da qua Non scoppia Eh, no, non scoppia Mi ha scoppia C'avevo poca vita E porca puttana È stato quel colpo Che mi ha dato il mid Mi ha dato il colpo Ma ha smezzato la vita Un nemico è stato ucciso Dovevo arrivare fino al mid Per dargli la killa Eh, male Dovevo stare back Dovevo stare sotto torre a difendere Bravo, Yorick Passa interno Passa interno 14-0 Cioè, dai È impossibile Ma no, non è impossibile Guarda quanto mi toglie Dai Vaffanculo Questo è implodo Basta fight Basta fightare di gruppo Nesto gioco Ah, sì Rubber Continua Vai, vai Vai top Vai top Fino a camminare Mentre Mentre Tutti Oddio Ma che fa questo? Se piglia il colpo Al posto del Saffor Ma sta fuori Eterno Affanculo Melenico Finché io ho fatto una ulti in mezzo L'ho smizzato Aperto Mi era Back, back, back Tanto io non c'ho Grand KD Gold Ma che becchia Faccio prima Non c'è a piedi Mi sta andando a seguire malamente La tua torre è stata distrutta Grave, grave Siamo postati solo noi Sarebbe da spingere pure un po' top Ma il punto non è tanto quello Direi a mettere abbastanza bisogno sulla mappa Eh, pure quello Ma chiaro che abbiamo gruppato senza senza C'è una roba che mi era un po' Fazzurica A fortuna Sì, Adrox è fissato Una maledizione sulla mappa Vai, vai Pushate voi Pushate qua Allora dovremmo riuscire a gestire come Via, via Via, via Sì, ho visto Ah vai, ora subito ci potete andare Rabbe Allora, sei stato sotto la torre Ora tornate indietro Basta Oh Dio Non ho nemmeno attaccato perché era inutile Ci hanno giappato da dietro Vabbè dai ho finito l'altro oggetto Non ho nemmeno attaccato Capirai Questi ci scoppiano Capirai, domani Cazzo di merda Sì Vaffanculo No, l'hanno distrutto qua Guarda che liscio Devo comprare quell'oggetto per forza Io dato che sto a base Mi viene fullo E se posso compra compro Eh non lo so però La vedo qui già sta partita È tosta Quella sì Ovviamente tosta Però stiamo recuperando Il late Un alleato È stato ucciso Li faccio tutti da solo Vaffanculo Vabbè me li so fatti due E sto scappo So più che so di farlo Non riesco a che a un fallo Eh non riesco a farla Ma non ho mobilizzato Eh l'ho premuto quattro volte Però è impossibile Allora, in sto caso sei andato troppo dentro il fight Eh no Non sai qual era il problema Volevo killarlo normale Solo poi è arrivato l'altro in mezzo Dico vabbè moro sicuro Ma gli sparo l'ultima Ma aveva stonato E quindi niente da fare È andata male Serie di uccisioni del nemico Comunque È male È male Allora me lo scoppio io Per Dio Troppo forte Fatemi andare back Vabbè che ho già usato tutto quello che avevo Ci servono assolutamente i miei danni Sono io e il carry Non c'è arrivo cazzo La trice la fa da solo Se il master non si riusciva a fare Aspettate Mi scoccate Eh un po' di figlio Che il master non ti paghiamo uno a uno Eh ma cazzo Eh ma me ne va troppo Ma ne va puttando Ma ha levato un casino La tua torre è stata distrutta Ah e dai Cos'è il peggio che può succedere Un alleato è stato ucciso Non se l'aspettava Non se l'aspettava Che male che mi fa Che male che mi fa Occhio eh, riaspettati qui, siete solo in due Ah sicuramente Lui lo sta morendo Siamo il rabbaton di cattiveria 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 Il tuo inibitore sta per rigenerarsi Buono, il nostro inibitor sta per tirarsi su di Siamo il rabbaton di cattiveria Uno per uno Vai vai ho il tato, fateglielo finire Fateglielo finire La ultima non può fare più nulla Oh che fai prendi il cazzo No ma come cazzo fai Con pochissimo Eeeh, questo azzir non riuscirà mai a difendere la sola Due dodici Eeeh, un po' difficile Eeeh, mi sa che ho perso, si Ma questo Adros è scandaloso È solo che ha fiddato Ma infatti ora Ora che stiamo entrando nel late Perché oramai lui è full build Quindi noi possiamo solo scalare Quasi Infatti io lo shotto già da un po' Via 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 No infatti perché l'alleato va a morire Io non capisco Fisca A volte certe cose sono incomprensibili Non capisco perché l'alleato va a morire Drake, we need Drake, Drake, direiamo al Drake Oh no che danni Non aspettavo di fare tutti quei danni L'ho shoottato con una combo Eh vabbè però l'ho colpito pure io comunque Pure io adesso faccio un sacco di danni Una visione qua che l'hai? Dove? Sì Eh l'ha messa rubber Eh ok Vai fate il Drake Fate il Drake Mi è andato da dietro e va bene Ok è ralentato Sto rallentato Andiamoci Va bene Va bene Tanto quello lì Quando usa devi fare così Devi cercare di stunnarlo e andare via Ah sì per forza Perché se poi ti killa La ulti si resette E quindi lui ha altri 10 secondi di ulti Ho bisogno di nuove armi Sentitelo Oh Fra Era quanto potere maggiore Io c'ho la velocità d'attacco che fa schifo Allora tu fammi vedere Ora che ti devi buildare 75 Fatti la brama a sangue Eh sì sto aspettando i soldi Però perché sono pieno Ruba vita Ok allora ora dobbiamo ruotare top Dobbiamo pushare a top Perché è il momento di fare il nusher Oh ma che ti ho fatto male Poverino Oh ma che ti ho shottato Eh Ma che ti ho shottato Ripla Nashor Nashor Istantaneo Perché non lo stiamo ancora facendo Ma l'ho comuntata No dai crepa Una visione qua rubber Abbiamo fatto già Ma dai rubber vai top Noi andiamo back A difendere in base E poi pushiamo No anche perché dovremmo riuscire a potermi a comprare qualche altra cosa Compra il volo che sennò cade a base Eh no non ci arrivo per poco Eh no mi manca un po' Chiedimi se ti sto ascoltando Quanto ti serve? 200 Quanti gold hai? 2600 Vendi una porza o la lama di Doran e comprati la spada da 1300 Dopo dopo Vabbè dopo no E poi vendi Li vendi tutti e due Mid mid tutti mid Dobbiamo pushare mid Ho ucciso Katelyn Idiota Ma Katelyn fa schifo comunque Quel giocatore penso sia il peggio giocatore della loro squadra Il tuo inibitore sta per rigenerarsi Oh ma dove vai puttana Eh no eh Eh E' una fu sciolgo tutta Oh cazzo 1300 di fu Hanno flashato per la paura della mia fu Ah questo non ve lo tirate giù manco per il cazzo il carretto Tom mi metto a ballare Ma come Oh siiii Parliamo vicino al carretto Io devo difendere i carretti Eh ma questa ha messo a proprio che è vinta eh E prima era aperta Eh va bene Non l'avremmo detto Eh madonna No ma quella fa malissimo Aiuto 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 L'ho ucciso Si va a far culo L'importante è che ho ucciso quello prima di morire Io ho sparato proprio un colpo mentre morivo Ehi signor amico guardi chi c'è qua Signor amico con dove? Signor rubber Ma va un culo vendetto La tua squadra ha distrutto un inibitore La tua squadra ha distrutto un inibitore Guarda penso proprio che ha vinto Easy Easy Eh tu fatti i shotti di ver No l'ha chiusa rapido Eh niente Gigi Allora rega Eccoci qua siamo tornati in lobby E' stato un partitone l'abbiamo anche vinta Che sofferenza però E' una sofferenza però mamma mia Veramente una partita lunga e bella Dai E' l'hiamo pure vinta quindi C'è stato tutto insomma Allora comunque io ora stavo guardando un po' Ah ho livellato Adrox ha fatto 45.000 danni Io che pensavo di averne fatti di meno Ne ho fatti 70.000 No tu ne hai fatti di più Shottati Dio caro Ne hai fatti di più sicuro 70.000 Eh mo eh Per forza Ah rega Ve l'ho detto che è stato un partitone Non me credevate Quindi Siccome è stato un partitone E League of Legends E' sempre figo Lasciate Commento e mi piace al video Che c'è sta E dai Me raccomando Rega se non siete iscritti al canale Iscrivetevi E seguite anche tutti i network C'è amico correnati Che è comunque importante Così potete rimanere aggiornati E fa bene alla salute E niente Mi sa che se vediamo alla prossima Bella 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 Ciao 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 Grazie a tutti.